... Trapani trovato in possesso di 800 grammi di cocaina, giovane arrestato dalla polizia. Mazzara rapinarono un anziano nei presti delle poste, identificati dai carabinieri. Elezioni, il centro-destra ha deciso, Benedetta Corrao sarà candidata al sindaco di Mazzara. Elezioni, sabato scorso, incontro del grillino sull'utilizzo dei fondi europei. Calcio, in eccellenza, stop casalingo del Mazzara, battuto per 2 a 0 da Geraci. Lunedì 4 marzo, ben trovati con il nostro notiziario. L'avete sentito dai titoli, una pagina molto intensa, dedicata alla comica. Identificato ed arrestato a Trapani dai carabinieri del presunto autore di un furto in abitazione, avvenuto lo scorso 8 gennaio. Il servizio giro di vite dei carabinieri di Trapani sul fenomeno dei furti in abitazione nelle vicinanze del quartiere San Giuliano. A seguito dei tanti episodi che si sono verificati in zona, i militari hanno intensificato la propria attività di controllo per acquisire informazioni. E con l'ausilio delle immagini tratte da tutti gli impianti di videosorveglianza, sia pubblici che privati, sono riusciti ad identificare l'autore di un furto in abitazione avvenuto la sera dell'8 gennaio scorso nella via Fiume Freddo. Si tratta dell'attento dove nel Trapanese Alessio Minaudo, già gravato da numerosi precedenti per analoghi e reati, e che sino a cinque giorni prima del fatto si trovava agli arresti domiciliari. Secondo le risultanze investigative dei carabinieri, il Minaudo, aiutato da un altro soggetto in fase di identificazione, dopo aver forzato il portone di ingresso, entrava all'interno di una casa mettendo l'asso a quadro, dopodiché ne usciva portando via due televisori LCD a bordo di uno scooter guidato dal complice. L'uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare, messo alle strette e davanti all'evidenza delle proprie raccolte, confessava il furto, mentre così i due televisori venivano restituiti ai legittimi proprietari. Il Minaudo quindi è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ed a Trapani un quarantenne è stato arrestato per il maltrattamento in famiglia e i particolari nel nostro servizio. Nel corso dell'attività di controllo del territorio a protezione delle fasce più deboli e delle vittime di violenza di genere, la squadra volante della questura di Trapani ha tratti un arresto a Salvatore Scalabino, un quarantenne già noto alle forze dell'ordine preso ai trascorsi giudiziali, a seguito di una scopolosa attività di riscontro dei fatti emersi dopo uno specifico intervento della volante per una lite familiare e grazie anche alle informazioni assunte dalla stessa vittima e dai testimoni, i polizzotti hanno ricostruito l'intera vicenda caratterizzata da continue violenze domestiche commesse dallo Scalabino nei confronti della madre, una donna anziana e malata da tempo oppessa da continue richieste di denaro. Allo ripiuto la povera vittima era costretta a subire ogni sorta di violenza fisica e psicologica, ma riuscendo comunque nel suo dolore a trovare ora la forza di chiedere aiuto alla polizia. Da qui l'arresto dello Scalabino disposto dall'autorità giudiziaria e quindi per lui si sono aperte le porte del carcere. Gli agenti della sezione antirapina della squadra mobile di Trapani, sabato scorso durante un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno fermato un'auto sospetta con due giovani a bordo nella frazione XS di Trapani. Durante il controllo, i poliziotti hanno perquisito il passeggero, un 18enne trapanese disoccupato, trovandolo in possesso di un involucro sotto vuoto al cui interno erano presenti circa 850 grammi di covaina nascoste sotto al maglione. Il giovane, su disposizione del pubblico ministero, è stato condotto agli arresti domiciliarie presso la propria abitazione. Il valore della droga seppestrata è pari a circa 80 mila euro. Ed ora ci fermiamo per un momento di pubblicità. A Mazzara del Vallo, arrestati due uomini, sarebbero gli autori di una rapina perpetrata ai danni di un anziano nei pressi della posta centrale. Il servizio. Nel pomeriggio di venerdì scorso, i carabinieri della stazione di Mazzara del Vallo hanno dato esecuzione ad una ordinanza di arresti domiciliari disposta nel GIP del Tribunale di Marsala nei confronti di due mazzaresi per il reato del rapino aggravato. Si tratta del 50enne Antonino Buongiorno e del 39enne Francesco Quamense, ritenuti dalle indagini dei carabinieri quali autori della rapina effettuata lo scorso 11 novembre presso l'ufficio postale centrale ai danni di un anziano mazzarese mentre ad una terza persona, il 34enne, vipi le sue iniziali, è stato combinato l'obbligo di tumore. Le indagini condotte dai militari dell'arma nell'immediatezza dei fatti, grazie anche alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di vitro sorveglianza comunale e grazie alle testimonianze di persone presenti all'interno e dall'esterno dell'ufficio postale hanno permesso di ricostruire in ogni dettaglio la scena criminosa. Pochi minuti prima dell'aggressione, Antonino Buongiorno, assieme a vipi, notavano il prelievo di contanti da parte dell'anziano che stava per uscire dall'ufficio postale. Quindi, dopo averlo seguito per qualche metro, lo strattonavano portandogli via la somma di circa 800 euro che l'anziano aveva riposto in tasca. All'esterno, i due ripenatori erano attesi da Francesco Camense, che con la sua autovettura prendeva a bordo i due complici, dandosi a precipitosa fuga per le vie della città. L'intervento immediato e le indagini hanno permesso ai carabinieri di identificare gli autori della rapina. Lo scorso 28 febbraio, gli agenti della sezione antidroga della squadra volante di Trapani hanno tratto in arresto il 48enne disoccupato trapanese Filippo Loiacono. L'uomo ha subito testato sospetto dai polizzotti poiché si trovava alla guida di un'auto a noleggio di grossa cilindrata e dalla quale non forniva delle giustificazioni credibili. Gli agenti decidevano quindi di perquisire il veicolo e nel portabagagli rinvenivano 24 panetti di ascici dal peso complessivo di circa 2,4 kg, valore della droga sequestrata e pari a 20.000 euro. L'uomo è stato arrestato e quindi condotto nel carcere di Trapani. Intensa attività della polizia negli ultimi giorni su tutto il territorio provinciale la riassumiamo in questo nostro servizio. Arresti, denunce e sequesti. E questo è il bilancio dell'attività della polizia in provincia di Trapani eseguita negli ultimi giorni. Nel dettaglio, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato 4 persone, 3 in esecuzione di altrettanto ottenanza di custodia cautelare in carcere ed una per detenzione e spaccio di sostanza superpacente. In carcere sono finiti un Trapanese di 35 anni, un altro di 20 anni e ancora un Trapanese di 33 anni. Il primo è accusato di maltrattamento in famiglia ed è stato inoltre depilito poiché durante l'esecuzione della ordinanza è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana. Il 20enne deve scontare una pena residua di un anno di reclusione per cumulo di pene riguardanti reati contro il patrimonio alla pubblica amministrazione, nonché contro la persona. Il 33enne in fine deve spiare la pena di due anni ed un mese di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali. Il quarto arrestato, un 48enne statanese, è stato arrestato perché è trovato in possesso di 24 panetti di ascice. Agenti della questura poi hanno denunciato due menorenni per il furto aggravato in concorso e danneggiamento aggravato. Hanno arrestato poi un quarantenne per maltrattamento in famiglia, ravina e distorsione ed infine deferito altre tre persone. A Marsala i polizioti del locale commissariato hanno sottoposto a restrizione della libertà un marsalese di 45 anni per violenza privata ed un marsalese di 42 anni. A Mazzara del Vallo la polizia ha denunciato due romeni per il reato di diffamazione a mezzo web e deferito un marsalese di 45 anni per sottrazione di persone incapaci nonché un 32enne per resistenza ed attraggio al pubblico ufficiale e lesioni personali dolose, minacce e danneggiamento. Ed ancora, a Castelvetrano la polizia ha arrestato un pentenne estracomunitario per detenzione e pieno di spaccio di sostanze e superfacenti e deferito un altro pentenne estracomunitario per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. In Pina d'Alcamo la polizia ha segnalato all'autorità giudiziaria un marocchino di 26 anni per maltrattamenti in famiglia ed una marocchina di 59 anni per lesioni. Nel corso dell'ultima settimana inoltre elevate 30 contrapensioni per l'impiazione del codice della strada ed eseguito quattro sequestri. Ed ora apriamo la nutrita pagina politica ed elettorale. Nicola Zincaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico. il reggo governatore del Lazio è stato eletto ieri in occasione delle primarie con circa il 70% delle preferenze ed ha avuto la meglio sugli sfidanti Maurizio Martina e Roberto Giacchetti. In provincia di Trapani hanno votato oltre 5.000 persone ed anche qui il più votato è stato Zincaretti con circa il 66% delle preferenze. A Mazzara del Vallo invece hanno votato quasi 750 elettori e il più votato è stato Martina con circa il 57% ed ora un altro momento pubblicitario. Incontro sabato scorso promosso dal Movimento 5 Stelle sui fondi europei. Sono intervenuti il deputato regionale Luigi Sunseri ed il candidato sindaco Nicola Lagrutta, il servizio. Basta dubbi sui fondi europei e il tema di questo incontro. Per parlare di cosa? Siamo qui oggi, ringrazio soprattutto Nicolò e i ragazzi del Meetup per organizzare un incontro che parla di una delle tematiche sicuramente più importanti che riguardano sia le amministrazioni locali sia le prossime elezioni europee, sono quelle sui fondi. I fondi europei sono quella risorsa che purtroppo in Sicilia troppe volte è stata sprecata, mal utilizzata e c'è stata una scarsissima informazione su questa che invece dovrebbe essere l'unica leva di rilancio della nostra regione che purtroppo vive uno stato economico pessimo. Siamo qui per dare le informazioni, per spiegare come funzionano per provare a fare un quadrato su quello che rimane nella programmazione attuale e poi ritrovare delle soluzioni che possono aiutare ci auguriamo un'amministrazione a 5 Stelle in questa città e quindi dare il supporto necessario per ciò che concerne i fondi extra-regionali. Nel programma eventuale dell'amministrazione 5 Stelle a Mazzara i fondi europei sono presenti? Assolutamente sì, nel caso in cui i cittadini vorranno dar credito al nostro progetto devono sapere che il nostro progetto è assolutamente collegato con tutti i livelli istituzionali faremo tesoro, così come abbiamo fatto tesoro di grandi professionalità e opportunità Luigi Sunseri è l'esempio concreto lui è stato per diversi anni a Bruxelles si è occupato proprio di fondi europei, di bandi europei ha proseguito il percorso istituzionalmente adesso è stato eletto a Lars, lui è un parlamentare dell'Ars e continua a fornire informazioni a dare a tutte le amministrazioni in particolar modo all'amministrazione 5 Stelle mazzarese nel caso in cui vorrete votarla informazioni su come utilizzare i fondi europei non solo per gli enti pubblici, quindi in questo caso non solo per il comune ma noi abbiamo intenzione di formare un gruppo, uno staff che si occupi appunto di attingere i fondi europei anche per le start-up, per le micro e medie imprese e non solo quelle perché dobbiamo dare grande slancio all'economia mazzarese dobbiamo dare prosperità a tutti i cittadini e le opportunità provenienti dall'Europa devono essere assolutamente sfruttate nella maniera giusta abbiamo quindi sia le professionalità sia i collegamenti con i vari livelli istituzionali e oggi c'è un meet-up tecnico un incontro non solo con gli attivisti nostri ma anche con chi vuole realizzare start-up con le aziende e questo è un punto di partenza e l'amministrazione 5 Stelle sarà molto attenta a sviluppare queste tematiche a metterle al servizio di tutta la cittadinanza ha riportato un grande successo l'evento denominato Ruo di Tumazzara organizzato dai giovani di Forza Italia un evento al quale hanno partecipato più di 100 ragazzi il nostro scopo si legge in una nota degli organizzatori era quello di ascoltare i nostri giovani concittadini sui loro sentimenti verso la città sulle cose che mancano sulle cose da fare e sulle cose da migliorare ci stiamo avvicinando alla campagna elettorale si legge ancora nella nota e a differenza di altri partiti che parlano dei giovani senza farli interagire e senza farli sentire parte attiva della società Forza Italia invece parte proprio dai giovani perché siano loro a decidere le sorti della città e c'è da dire finalmente è arrivata la cosiddetta quadratura del cerchio per quanto riguarda lo schieramento di centrodestra in testa raggiunta in patto tra Forza Italia e l'Udc e diventerà bellissima in vista delle elezioni amministrative del prossimo 28 aprile i tre partiti più probabilmente la giunta di una qualche lista di aria hanno tra l'altro specializzato la candidatura a sindaco di Mazzara del Vallo della professoressa Benedetta Corrau e questo sarà l'oggetto di una conferenza stampa che si enterrà domenica prossima 10 marzo e la coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Maria Maria Martingiglio guidata dai futuristi punta ancora sul turismo e sulla valorizzazione del centro storico e particolare nel servizio una città senza progetti è una nave senza rotta e senza porti da raggiungere non si può amministrare una città senza sapere dove portarla nel domani non si tratta di governare un condominio bisogna avere la dimensione di ciò che si vuole amministrare Mazzara del Vallo ormai è una città internazionale conosciuta in tutto il mondo per la sua storia e le sue attività economiche per decenni capitale della pesca e dell'agricoltura che hanno assicurato benessere alla popolazione negli ultimi anni era precipitata quasi nell'oblio occupando la cronaca solo per il sequestro di un natante o per gesti legati alla criminalità organizzata molti dei suoi edifici storici e monumentali erano ormai prigionieri dell'incuria e dell'abbandono oggi la nostra città vanta numerosi luoghi museali e siti da visitare possiede ed utilizza i manufatti storici per ospitare piccoli e grandi eventi rilanciando la propria immagine e attraendo l'interesse di investitori nazionali ed internazionali sul campo turistico oggi i suoi alberghi sono tornati a vivere e sono nati centinaia di bed and breakfast crescono nuovi mestieri legati all'ospitalità di persone che vengono a Mazzara del Vallo anche per la vocazione all'accoglienza una città nella quale si è liberi di essere uomini e donne nel pianeta e tra le pietre storiche che hanno visto l'alternarsi di diverse civiltà qui greci fenici arabi normanni spagnoli francesi hanno contribuito a far diventare questo luogo un grandioso contenitore di storia e di tradizioni questa è una città di gioielli nascosti l'arte antica e contemporanea per il futuro della città una città di musei e di luoghi da vivere una città sempre più turistica in linea con lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca sono candidata al consiglio comunale con la lista volare a sostegno del candidato sindaco Mariella Martinciglio per portare avanti e sostenere ancora una volta la continuità dell'amministrazione dell'onorevole Nicola Cristaldi Ancora qualche nota sulle elezioni il candidato sindaco Salvatore Quinci ha partecipato a qualche giornata a Trapani all'incontro organizzato nella sala convegne del museo Pepoli in occasione della decima edizione di turisti per cosa l'appuntamento annuale sul movimento turistico in provincia di Trapani per Salvatore Quinci il convegne ha rappresentato un importante momento di complotto sul settore turistico che volendo e anche volano dell'economia mazzarese il giovedì prossimo si terrà un altro incontro nella sede di partecipazione politica in via Valde Mazzara temi dell'incontro con la stampa dei cittadini sviluppo centro storico e giovani energia prosegue lo ricordiamo la programmazione di Televallo sulla prossima campagna elettorale appuntamento stasera con l'inizio con l'inizio alle ore 21.35 con il solito speciale Televallo ospite in studio gli assessori a Dile Spagnolo Giuseppe Fontana e Luca Bono ed ora siamo alla pagina dello sport parliamo di calcio in eccellenza nei weekend si sono giocate le partite della 25esima giornata di campionato seguiamo assieme risultati campionato d'eccellenza girone A 25esima giornata Alcamo Castellammare 1 a 0 Canicattì Cus Palermo 1 a 0 Castelbuono Marsala 1912 1 a 2 Licata Dattilo 5 a 0 Mazzara Geraci 0 a 2 Parmonval Profavara 2 a 1 Partinica Audace Caccamo 0 a 1 Sant'Agata Mussomeli 1 a 0 la classifica Licata 67 punti Canicattì 58 Sant'Agata 51 Dattilo Mazzara Parmonval 43 Geraci Alcamo 35 Profavara 34 Mussomeli 29 Castellammare 28 Caccamo 24 Marsala 23 Cus Palermo 20 Partinica Audace 11 Castelbuono 6 Battuta d'arresto dunque per il Mazzara dopo tre vittorie consecutive ieri pomeriggio i Canarini erano stati battuti in casa per 2 a 0 dal Geraci le reti ospiti seglate da Scilluppo al 25esimo del primo tempo sul rigore e dall'ex palazzo nella ripresa nel Mazzara da segnalare ben patto espulsioni prossimo impegno dei Canarini fuori casa contro il datto e con questa ultima nota sportiva ci chiude qui l'appuntamento di Enno con il Tg Vallo vi ricordo invece l'appuntamento di stasera ore 21.35 speciale Televallo dedicato alle elezioni grazie grazie per averci seguito buongiorno alla prossima grazie a tutti